Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'ultima partita del 2019, l'ultimo post partita, visto che poi non dovrebbero esserci n'altro, a meno che non salda fuori qualcosa, ma è l'ultimo post partita sulla Juve di questo 2018. Dunque, Juventus al Moccagatta vince il derby di Alessandria, la Juventus del 23, vince 1-0 la rete di Mavidi e come ho detto appunto, vince il derby di Alessandria, perché la Juve under 23 gioca ad Alessandria, tutte le partite casalinghe, anche se oggi giocava ad Alessandria, ma in trasferta, perché oggi giocavano i grigi in casa. Beh, allora ragazzi, a me è piaciuto molto come ha giocato, come ha interpretato la partita under 23, anche se c'è ancora degli errori, soprattutto nelle ripartenze, possibili ripartenze facili, che potrebbero portare molti più gol, spesso sono buttate via. Alessandria nel secondo tempo è cresciuta, ha cercato in tutti i modi di pareggiarla, è solo un miracolo di Del Favero, non ha permesso appunto ai grigi di pareggiare la partita. Forse il pareggio era più giusto, però onestamente io questa squadra qua la sto seguendo quest'anno e vedo tante partite, ho visto tante partite dove la Juve meritava qualcosa di più e ha perso, e quindi ho appareggiato meritando la vittoria, credo che ogni tanto anche ci possa andar bene. Sugli scudi oggi un grandissimo Kastanos, il collante perfetto per l'under 23 dal centrocampo all'attacco, un giocatore di una classe immensa, veramente un giocatore che con la classe A potrebbe giocare anche in Serie A, se non fosse per la discontinuità e purtroppo un po' di lentezza anche nelle giocate, ma oggettivamente un giocatore di categoria superiore. Oggi Bene Del Favero, io di solito l'ho massacrato, spesso, un giocatore che spesso è costato dei punti alla Juve, ma che oggi è stato semplicemente perfetto, con quella parata ha fatto una parata che vale il prezzo del biglietto e vale i tre punti alla Juve. Seconda vittoria consecutiva contando la vittoria a tavolino contro la Propiacenza, quinto però ha risultato, quarto risultato utile consecutivo nelle ultime quattro partite, segno che l'under 23 pian piano si sta amalgamando e sta pian piano prendendo forma sempre di più e soprattutto, come posso dire, confidenza con la categoria. Juve che con questa vittoria si allontana ancora di più dalla zona retrocessione, che è la cosa da evitare principalmente, e comincia ad entrare in zona tranquilla, se la zona tranquilla in Lega Pro non esiste in Serie C, perché dalla zona tranquilla si trova subito in zona playoff, quindi Juve che deve cercare di stare in questa situazione fino alla fine dell'anno, secondo me. Se poi dovesse centrare in playoff, tanto di guadagnato sono partite in più che ci potremmo vedere. Comunque, grande Juve oggi, il derby bianconero, a me non resta che salutarvi, a tutti gli amanti della Serie C, un augurio di un buon 2019, e arrivederci col prossimo video. Ciao! Grazie! Grazie!